Ma gli avete messo a Walrein, Bora, Idropompa, a quegli altri, c'hanno tutte le mosse giuste adesso? No, allora, hanno mosse più probabili del loro tipo, ma non abbiamo... È mai sbagliato in una randomizer! Perché così perderemo sempre! Che idea è? Perderemo sempre più spesso così se tutti quanti i nemici hanno le stab e noi abbiamo Tyranitar Zampillo. Penso ogni tanto di battaglie Pokémon di potermene intendere. Tyranitar Zampillo non è un Malus, è un buono per lui! Il problema è che voi ci avete spinda e noi ci c'è a Jean-Claude Van Damme, te capisci? Oh, oh, fulmine tanta roba, gran set, fulmine all'acciaio e surf, belle stab, Pardini. Ma stai scherzando? Io firmerei! Mamma mia, forse 4 per roccia! Sì, sì, parla, io sento solo... Pardini, Pardini, Pardini! Ma ragazzi, bisognerebbe che anche i nostri Pokémon imparassero! Aspetta, aspetta, cosa sento di qua? Sei nonia, sei nonia! Ragazzi, sto sentendo male vicino a...